Siete qui per difendere i vostri posti di lavoro? Assolutamente sì, la struttura deve restare aperta sicuramente per i nostri posti di lavoro e anche per la città di Varese perché è una struttura fondamentale questa direi per tutti i cittadini e per noi soprattutto, oltre che per loro. L'occupazione quindi continua ad oltranza? Assolutamente. Nella speranza che arrivi un acquidente? Si spera, che non importa chi sia, basta che ci sia. Ok, quindi l'obiettivo è il 30 marzo? Si spera. Allora noi in questo periodo stiamo vivendo veramente una situazione molto difficile per noi, per le nostre famiglie, per il nostro vivere perché non possiamo mica parlare di progetti, mica progetti, non possiamo spendere di più di quello che possiamo avere. Siamo qua, ci presentiamo tutti i giorni a lavorare senza mancare un giorno, rispettiamo gli lustri orari, almeno nel reparto cucina che lavoro io, i ragazzi sono del reparto delle pulizie, siamo sempre qua. Noi vogliamo certezze, certezze vuol dire per noi è tanto, abbiamo fatto un Natale molto particolare, molto ansioso, adesso molto triste, senza magari prendere i regali ai bambini, che magari un bambino ha bisogno del regalo. Io ho un figlio, tutti hanno famiglie qua, noi vogliamo le certezze, abbiamo diritto di avere certezze, di avere il nostro posto di lavoro e andare a casa tranquilli come le persone normali. Noi andiamo a casa magari con l'ansia, con il fatto di litigare magari con il bambino, perché sei ancora qua, aspettiamo ancora, aspettiamo ancora, abbiamo le speranze, però oggi per noi è un giorno molto particolare, molto ansioso, in effetti si vede che siamo un po' tessi, molto tessi, speriamo in bene, speriamo in nostro futuro.